Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi siamo in un nuovo video di The Sims 4. Iniziamo una nuova simulazione. E' bele sì, mi sto prendendo troppo bene con le simulazioni, mi sto divertendo un mondo! Sono troppo divertenti, mi mancavano troppo. E quindi continuiamo con la prossima simulazione. Facciamo guai genitoriali. Ho già paura, cioè già a leggere guai genitoriali, già mi viene male. Che cosa dobbiamo fare? Due giovani genitori alleghi e spensierati non hanno idea di come comportarsi con i loro bambini turbolenti e indisciplinati. Riusciranno a creare l'ambiente più adatto alla crescita dei bambini e a tenerli incarreggiata fino all'adolescenza? Eh, bella domanda. Avremo a che fare con due piccole pesti. Dettagli della simulazione. Ok. Premio e pozione del ritratteggio. E bonus? Non si sa, è un bonus. Allora, inizio della simulazione. Aiuto! Allora, un attimo. Andiamo a presentare i sim. Poi vi faccio vedere dove si sono trasferiti. Intanto siamo a San Seguoia. Perché ovviamente è una famiglia. E San Seguoia è il luogo perfetto per le famiglie. Allora, abbiamo Jennifer Martinez, lei. Anzi, andiamo in casse. Andiamo a vederla in casse, al volo al volo. Ok, perfetto. Siamo in casse, così vediamo anche i tratti. Alla Jennifer Martinez. Ok, eccola qua. Che carina che sei. Ah, tu non sai che figlia hai allevato? E ti devo dare io una mano. Che sono lì? Tata Matilda. No, non era Tata Matilda, l'altra Tata. Allora, anima gemella, ama l'aria aperta, è buona ed estroversa. Ok, vediamo come l'ha vestita al gioco. Bella! Bella, bella, bella. Ok. Perfetto, bellissima. Poi, suo marito Pablo Martinez. Eccolo qua. Carino. Pure lui ha anima gemella, è vegetariano. No, vegetariano no, ti prego, mi devo ricordare di fare solo verdure. Ama l'aria aperta ed è attivo. Ok, questo è il suo quotidiano. Molto carino. Formale, sportivo, da notte, da festa. Costume da bagno, clima caldo e clima freddo. Ok. I figli. Ho paura. Sofia Martinez. Testa calda. Ciao, cara. Ciao, mi sa... Oh, che carina la maglietta col porcellino, però mi piace. Mi piace un sacco. No, vabbè, bellissime. Adoro, io non gliele metto mai se c'ho battone ai miei figli. Ma non perché sono brutte, perché mi scordo. E Leonardo Martinez. Perfido, mamma mia. Già, 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 mi sento male. Mi sento malissimo. Ok, questi sono in suoi outfit. Bene. Abbiamo visto, lui è prodigio artistico e invece lei è birbante, turbolenta. Ok, torniamo in game. Facciamo un lungo sospiro. Io sono tata Matilda, ma tata Matilda è la magia. Io non ho la magia. Allora, iniziamo a mettere l'autonomia. Ecco, già ci sta. Meraviglioso. Compra abbastanza letti per la famiglia Martinez. Compra un tavolo da pranzo. Compra almeno un giocattolo per bambini. Eh, loro si abbraccia e dico, dai, buona fortuna, amore mio. Buona fortuna pure a te. Fai un bagno, una doccia, Sofia e Leonardo. Ve lo volete fare il bagnetto? Allora, Lucio, cosa state combinando? Ah, vedete di non fare già i guai, eh. Brava, mangia tutti i piselli che fanno bene. Lui tramezzina la marmellata. Bravi bambini, bravi. Allora. Sì, esatto. Non abbiamo... No, questa... I nostri figli sono già cresciuti. Quindi, questa roba non ci serve. Sistema al volo, al volo, questa cameretta per loro. Quindi dormiranno pure insieme. Ok, allora. Ho sistemato la... No, aspetta. Aspetta un attimo. Questo non va bene. Aspetta, devo fare altre modifiche a questa casa. Perché ovviamente non l'ho vista prima. Ok. Allora, ho fatto la cameretta. Diretta, quindi gli ho messo una scrivania per studiare. L'armadio, il letto a castello. Ovviamente sotto è della bambina, sopra è del bambino. Poi ho tolto appunto il seggiorno, ho messo le sedie. Siccome l'è creativa, le ho messo sul tavolo attività. E fuori ho messo questo per giocare con le biglie. Il gioco della campana. Questo, visto che lei è birbante e turbolenta. Quindi usa l'arrampicata, l'altalena. E però dice che vuole anche i giocattoli. Quindi prendiamogli la scatola dei giochi direttamente. Così fanno quello che vogliono. Ah, gli prendo anche ovviamente questo per le biglie. Così. Dov'è la scatola dei giochi? È scappata. Ha detto, no, io non voglio partecipare a questo gioco. È brutto. Ma non sai nemmeno che cosa sta a superare accadere. Ok, perfetto. Allora, segna Sofia e Leonardo a un letto per bambini. Subito. Allora, segna il letto. Questo è di Sofia e questo è di Leonardo. Allora, assicurati che i bambini si facciano una bella dormita. Aspetta, sono le sei e mezza del mattino. Allora, prima mandiamoli. Eh, no, niente fichi fichi. Vatti a fare una doccia, bambina. Condividi i segreti di Sanseguoia. Che cos'è? Baccia sulla guancia. Ma tu lavori? Ah, sì, lei è una scrittrice. E lui? Ah, lui è un'atleta. Ok, ok. Il cinema a pontile dell'ancoraggio. Vanto è una scelta davvero ampia. Sembra quasi che sia sempre in programmazione un film del tuo genere preferito. Oh, mamma, che è successo? Non c'è ancora andata in bagno. Che te urli? Comunque, a posto di flirtare voi due, io sono cercato di mandare i bambini a farsi una doccia. Allora, sprona A. Non a lavare i piatti. Come faccio a mandarle a fare una doccia? Scusa. Quando il livello di igiene dei bambini è basso. Ah, ok. Allora no. Siete ancora puliti. Ok, lei è andata a giocare con i giocattoli. Cucina un pasto di gruppo. Oh, dobbiamo cucinare con i bambini. Che bello. Speriamo che ci ascoltino. Allora, io ci provo. Ma smetti di flirtare con tuo marito? Niente. Questi pensano solo a flirtare. Cucina insieme ai bambini. Dai. Ci proviamo. Cosa facciamo di buono? Aspetta. Quello è vegetariano. Ti prego. Vegetariano. Vegetariano. Eh, dai. Facciamo il formaggio grigliato che pure i bambini lo sanno fare. Tu vai da qualche parte. Vai in bagno. A esercitarti nei discorsi invece. Perfetto. Così ti ho tolto dai piedi. Bambini, vogliamo fare un pasto tutti insieme. Cuciniamo la merenda da portare a scuola. Il pasto per il pranzo. Il... Com'è che si chiamava? Il... Ecco, brava. Brava. Com'è che ti chiamavi tu? Sofia. Brava Sofia. Bravissima. Bravo. Tu fai il tifo per tutti. Mo' lo brucia la mamma. Quanto ci scommettete che è la mamma che non sa cucinare? Bravi bambini. Oh, per ora sembra una passeggiata, eh. Sembrano bravi. Ascolta. Non fanno quello che gli dico. Acquisita l'abilità mentale. State andando a scuola? Aspettate! No! E abbiamo preparato il pasto qui. In pacchetta nel pranzo a sacco. Niente, troppo tempo. Se ne sono già andate a scuola i bambini. Vabbè. Sarà... Sarà per domani. Domani? No, domani è sabato. Non si va a scuola. Vabbè. Non importa. Mettiamolo nel frigo. Riponi. Ho visto una mano fuoriuscire dalla parete del bagno. Allora, lei è molto stanca. Lei è già stanca. Per essere stata la mattina con i bambini. Non ne può già più. Ne c'è basta. Sono stanca. Dai, sono andate a scuola. Dovevi essere felice. Lui mangia. Lui è bello sveglio. Attivo. Fantastico. Devi andare al lavoro. Sì, fra tre ore. Non mi hai raggiunto il livello 3 di carisma. Guarda qua, ma non ho lasciato i piatti sporchi. Quei tuoi bambini. Niente, gli dobbiamo insegnare a sparecchiare. Sì, ma pure tu devi imparare a sparecchiare. Guarda qua, mi devo occupare pure del marito. Bacia e dillo in giro. Sofia trascorre la gran parte della ricreazione andando in giro a cercare di baciare qualcuno. Non è riuscita a baciare nessuno. Scappavano tutti. Lui è padre, poi. È troppo giovane per baciare. Cioè, ma anche se ha 18 anni, è troppo giovane per baciare, per avere un fidanzato. Ma che stiamo scherzando? No, 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 no. Non esiste proprio. La mia bambina. Cioè, avete chiamato proprio la persona giusta per queste cose. Proprio il padre. Ma, guarda, mi lascia... Niente, io mi devo occupare pure del padre, che mi lascia le cose in giro. E poi io devo sistemare. Ci credo che quella poveretta è stanca. Ho saputo del vostro recente arrivo nel quartiere. Di sicuro vi starete ancora ambientando. Ma Sofia e Leonardo stanno accumulando insufficienze. Ma come? So che sono bambini vispi e creativi. Quindi il problema non può che risiedere nei genitori. Come ti permetti? Cioè, cioè, cioè... Che cosa stai insinuando? Cioè, i bambini sono vispi e creativi. E quindi il problema siamo noi. Aiutate i vostri figli a rendersi conto del loro potenziale. Terrò d'occhio sia loro che voi due, Martinez. Nel mio distretto scolastico le cose funzionano un po' diversamente. E non ho vinto 12 premi come preside dell'anno, tollerando bambini indisciplinati e genitori assenti. Avrete di nuovo mie notizie. Cioè, meraviglioso. Ma ce lo dobbiamo vedere pure con il preside. Sembra tipo... Nei film americani ho visto che ci sono tipo i poliziotti. Tipo se avete visto Due Gemelle a New York. Ci sono appunto... C'era quel poliziotto scolastico che quindi controllava i bambini o i ragazzi o i ragazzi se andavano a scuola oppure no. Ecco, il ruolo del preside è proprio quello. Il poliziotto scolastico. Sì, ha ragione il preside però, eh. Ha proprio ragione. Devi andare al lavoro e ti vai a mettere sull'altalena. Sei più bambino tu che dei tuoi figli. Eh, vai, cammina, corri. Corri! Oh, mamma mia, povero mondo. Siamo rovinati qui. Per ora l'unica seria sono i figli. Sofia non è la prima studentessa da sette della scuola. Bene, adesso si sveglia lei e li mettiamo sotto con i compiti. Bambini, siete tornati? Ci hanno chiamato il preside. Chiedi della scuola? Com'è andata a scuola? Tutto bene? Chiedi della scuola. È andata bene? Eh, brava, mangia. Però prima fammi sapere com'è andata a scuola. Eh, è stata una noia mortale la scuola, mamma. Non devi dire così. La scuola non è noiosa. E a Ted com'è andata a scuola? Ah, lei è andata in giro a baciare. Sta dicendo adesso, no. È andata in giro a baciare i ragazzi, ma scappavano. Oh, sì, ti abbraccio, amore di mamma. Uh, che dolce. Jennifer ha davvero apprezzato di aver ricevuto simili gentilezze da Leonardo. Nella circostanza il suo affetto l'ha fatta sentire un po' più speciale. Assolutamente sì. Allora, però non mi frega niente se mi ha abbracciato. Fila a fare i compiti. Quindi appunto lei ha detto che i ragazzini scappavano da lei, i suoi amichetti. E lei fa, ma no, ma non ti preoccupare, amore mio. Li picchiero tutti. Ok, appendiamo i vostri disegni che avete fatto a scuola. Sì, ma io vorrei, allora, io vorrei fare una cosa diversa. Quindi io vorrei usare proprio la genitorialità. Genitorialità, visto io non la uso mai. Per dire a sti bambini di fare i compiti. Ma non esce. Ok, livello 2. Vediamo se salendo di livello lo sblocco. Sprona a fare i compiti. Ok, devo fare il livello 2. Assolutamente. Pure loro appunto devono salire con la genitorialità. Per capire. Quello è andato a dormire senza fare i compiti. Vabbè, ma poverino è stanco. Eh, lasciamolo dormire, dai. Tu invece sei bella sveglia, pimpante. Vedi di lavare pure quel piatto. Sprona a lavare i piatti pure. Moda solidale diventa tesa. Oh, che brava. Controllala pure. Guarda, ti aiuto a fare i compiti. Aiuto a fare i compiti, su. Poi dopo mi lavi i piatti. Anzi no, perché ho fatto i compiti se li lavo io i piatti. Proprio perché sono una... E lei è un po'... Cioè i genitori non sono così severi. Cioè si lasciano molto ammorbidire dai figli. Quindi sì severa, ma fino a un certo punto. Sono diventate buone amiche. Bravissima, brava la mia bambina. Insegnante valente. Jennifer sa istruire in modo magistrale. È il suo premio più grande il miglioramento degli allievi. Oh, amante della famiglia, sì. Perfetto, livello 3 di genitorialità. Soddisfare i loro bisogni primari come la vescica l'igiene e il divertimento. Perfetto, posso dirgli di andare a fare una doccia. Meraviglioso. Visto sto sbloccando tutte quante le cose così con la genitorialità. Ma servirebbe una scrivania sta poveretta per... Per lavorare però, eh. Sta pianta la tolgo. Anche sta poltroncina ti metto una scrivania. Compiti finiti. Bravissima la mia bambina. Ma quello sta dormendo ancora. Quello fa finta di dormire. Te lo dico io, altro che... Però lei è una brava mamma. Cioè nel senso che si lascia bindolare dai figli anche. Cosa c'è? Dimmi. Fatti chiedere un consiglio. Dimmi, dimmi, dimmi tutto. Testimone di bullismo. A scuola c'erano dei bambini che avevano preso di mira uno dei miei amici. Volevo intervenire, ma non sapevo cosa fare. Cosa pensi che avrei dovuto fare? Fatti avanti e difendi il tuo amico. Stanne fuori e consola l'amico dopo. No, fatti avanti e difendi il tuo amico. Punto. Cioè. Oh, non me ne frega. Io su questa cosa sono... Oh... Sono ferma su questa cosa. No, se vedete che qualcuno viene maltrattato, vi dovete mettere... Cioè non è che dico vi dovete mettere in mezzo per prendervele. Per farvi picchiare o cosa. Ma per bloccare la situazione. Assolutamente. Maritino mio caro, vieni qua, abbraccia. Eh ma aspetta, togliti sto costume. Visto che sono così affettuosi l'uno con l'altro. Quindi ti... No. Esprimi affetto. Bacia. Trovato. Cerca di avere un figlio con Jennifer. No. No. Ne abbiamo già due. E sono già un problema. Ne devo gestire due. Tu ne vuoi un altro? E lui mi muore. Ricorda il giorno delle nozze. Racconta storie sulle pietre miliari del bimbo. Ma te lo ricordi com'era bella avere un bambino piccolo nella culla? Carino coccoloso. No, ti prego. Ti prego no. Tu e le tue brutte idee del cavolo. A me vuole far fallere lo stomaco il giorno del nostro matrimonio. Ero bellissimo, bianco e nero. E tu avevi quel bouquet spettacolare. Sì, amore, è vero. Hai ragione. Eravamo bellissimi. Ecco, ora sta parlando del bambino. Sì, era stupendo. Quel fogottino di gioia. Era bellissimo. Bacino. Ma mangiare, ok, perfetto. Calma i bollenti spiriti. Tu e il figlio. Non ti fare... Non ti mettere... Non farti mettere brutte idee in testa da tuo marito, eh. Sì, ma scusa. Niente, questo fa finta di dormire. Ti aspettavo al varco. Stavo facendo finta di leggere. Aspettando che ti alzassi. Dai una lezione preziosa pure a lui. E poi... No, vieni qua. Sprona a fare i compiti. E poi ti vai a lavare prima di metterti nel letto. Guarda, guarda che mi lascia i piatti in giro. È andato fino alla cucina e poi me l'ha lasciato lì. Forza, devi fare i compiti prima di andare a dormire. Beh, vabbè, falli dove ti pare. Basta che li fai. Aspetta, la pipì la fai dopo che hai finito i compiti. Bravo. Allora, aspetta. Incoraggio a fare i compiti. E poi ti mando aiuto con i bisogni. No, non incoraggio a trattenere la vescica. Ma povero, fagli fare la pipì. Sprona a fare la pipì. Vai a fare la pipì, vai. Ah, c'è la tua padre. Vai, vai, vai a fare la pipì. Eppure fatti una doccia dopo. Il miglior vuoto mostro... E che ne so io, bambino. A scuola ho litigato con qualcuno parlando di quale fosse il vuoto mostro più potente. Io dicevo che era l'articorno, mentre l'altro poteva dire Su, intor, chi ha ragione? E io gli dico, hanno la stessa potenza. Così impari a litigare con... Con gli altri per ste cavolate. Aspetta, stai andando a giocare? Dai, bravo, sì, che mi devi completare questo. Bravo. Bravo, bambino, bravo. Noi bambini non li voglio controllare. Cioè li voglio... Voglio controllare solo i genitori. Così loro sono letteralmente... Parla con i tuoi figli. Eh, ho parlato con i miei figli. Parla tu con i tuoi figli. Comunque questo c'è ancora. Io lo salvo, perché... Quest'idea malsana che mi ha messo nella testa di avere un terzo figlio. Non mi sta dispiacendo. A parte lui ha dormito fino a mo', ma vabbè, sono dettagli. Sprona... Si mette a letto, vai. A parte che sta sul letto a castello, non lo posso mettere su. Vai. Vai a dormire, che domani è scuola, sono le due del mattino, sei ancora sveglio. Ha ragione il preside, siamo dei pessimi genitori. E noi vogliamo pure il terzo figlio. Bravo, dormi. Dormi. Vai a fare fichi e fichi con tua moglie, va? Ho visto che i bambini dormono. Perfetto. Io me ne vado. È stato un piacere. Prima che la situazione degeneri, io me ne vado. Addio. Allora, sono le tre del mattino. Tu, padre... No, tu, padre, non hai la cosa. Devo fare questa cosa della doccia. Quindi, vieni qua. Sprona a fare la doccia. Brava. Sì, me ne vado. Mamma mia, come sei. Ah, pure lei ha bisogno di una doccia. Te nessuno ti sprona a fare la doccia, poi ti ci mando io a fare la doccia. Allora, 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 allora. A parte che sono le tre del mattino, cioè io vorrei sapere... Ma tu perché dormi sul divano? Niente, hanno litigato, ha fatto un fichi fichi pessimo. E quindi è andato a dormire sul divano. Le sta mangiando. Me l'hai fatta la doccia? Bravissima. Sì, ora devo fare. Chiama la famiglia a tavola per mangiare e spero che lui dorma. Perché lei me l'ha fatto questo punto. Ora vediamo se me lo fa pure lui. Poi prepariamo la colazione. Così chiamo tutti a tavola. Vediamo di svegliarci un orario decente. Che qua hanno tutti gli orari sballati. Ok, sono le sei del mattino. Servi la colazione, uova e toast. Che è successo? Che è successo? Che è? Tutto a posto? Ok. Riponi gli avanzi di cibo per consumarli in futuro? Sì, ovvio. Io li ripongo sempre. Cioè, ma che stiamo scherzando? No, lui non me l'ha fatto! Eh, però... No, non devi andare a scuola. Vabbè. Prossimo giro. Altra corsa. Riusciremo a fare pure quel punto lì. Allora, vai e riponi questo. Fai in modo che un figlio prenda gli avanzi. Faccio il passo veloce selezionando il frigorifero. Figlio? Vediamo se glielo posso dire. Incoraggio il comportamento. Bravo, hai lavato i piatti! Bravissimo! In fondo che... Dì di mangiare qualcosa. Vai, diglielo. Così magari mi va a prendere gli avanzi nel frigo. Anche se appena ha mangiato, poverino. Ah, ok, no. Si mangia la mela. No, no, cos'è? Niente, vai... Adesso faccio io, faccio da qua. Ok, perfetto. Ma perché vai a dormire sul divano? Vai a dormire qua. Ah, ok, perfetto. Ho fatto... Sono riuscita a fare la prima parte. Parla con Leonardo e Sofia della scuola. Fai che Leonardo e Sofia siano di umore concentrato. Migliori i voti di Leonardo fino ad ottenere la media dell'otto. Ah, questo è un tavolino scacchistico. Scacchistico. E lo mettiamo fuori. Sì, lo mettiamo qui. Qui ci sta bene. Allora, per ora sembra che stia andando tutto bene. I bambini si stanno comportando normalmente. Pensavo peggio, sinceramente. Pensavo che mi urlassero contro, che non mi ascoltassero. Anche perché uno è testa calda, l'altro è perfido. Anche perché uno è testa calda, l'altro è stato calda, l'altro è stato calda, l'altro è stato calda, l'altro è stato calda. Grazie. Grazie.